Aiutare i ragazzi a fare i compiti assegnati a scuola ma anche dare loro l'occasione di svolgere altre importanti attività come un corso di lingua inglese o un corso di decoupage è l'obiettivo di Bibliotechiamo, un nuovo servizio dopo scuola promosso dall'amministrazione comunale di Sanza guidata dal sindaco Vittorio Esposito con il prezioso supporto dei volontari del servizio civile. Si punterà dunque ad aiutare gli studenti a svolgere i compiti a casa ma anche ad insegnare loro l'inglese e a decorare con la tecnica del decoupage ragazzi che saranno seguiti e accompagnati in attività ludiche e di animazione il servizio sarà attivo dal prossimo 9 ottobre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e 30 presso la biblioteca comunale in via Valdagri i genitori che desiderano far seguire ai propri figli le attività previste da bibliotechiamo possono iscrivere gli alunni presso la biblioteca comunale dalle 8 e 30 alle 12 e 30. Il dopo scuola nasce su impulso dell'assessorato alle politiche sociali del comune con l'obiettivo di aiutare gli alunni a svolgere attività educative didattiche sotto la guida attenta di animatori ma certamente anche di garantire occasioni di socializzazione. Un luogo è importante quello scelto per le attività di bibliotechiamo la biblioteca comunale che sarà lo spazio in cui i ragazzi si ritroveranno per condividere esperienze trasformando il momento dei compiti in un lavoro collettivo e di condivisione degli argomenti. Siamo orgogliosi di questo servizio che arricchisce la nostra comunità di valori e di cultura ha sottolineato l'assessore alle politiche sociali Marianna Citera la nostra intenzione è anche quella di togliere i ragazzi dalla strada spingendoli ad innamorarsi di attività culturali finalizzate alla costruzione dello spirito di comunità e della condivisione ha concluso l'assessore Citera.